L'oroscopo di oggi, è presentato dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Chiama, allo 0773 49 36 60. Visita il nostro sito www.cartomantieuropei.com. Ariete. Questa luna crea parecchie difficoltà specie se già esistono degli attriti in famiglia o nell'ambiente professionale. Possono esserci problemi che riguardano i rapporti fra colleghi o con il partner. Toro. La luna in un segno amico vi mette di buon umore, sarete molto attivi oggi sul lavoro, potete sfoggiare il vostro innato senso degli affari. In amore con i vostri atteggiamenti suscitate molto nervosismo nel partner. Gemelli. Bella questa luna che in serata apre il vostro cuore e la vostra mente. La pressione di Saturno continua a mettervi a dura prova, ma voi siete pronti per un nuovo amore o per una nuova avventura professionale. Cancro. Oggi la luna vi impedisce di tirare fuori il meglio sul lavoro anche a causa di problemi familiari. Il vero problema è che spesso siete un po' troppo rinunciatari, non avete il coraggio di prendere decisioni definitive. Leone. Le soddisfazioni che vi aspettano sul lavoro vi regaleranno un grande entusiasmo. Cercate di mantenerlo anche in serata quando una discussione in amore vi renderà parecchio nervosi. Appena potete, rilassatevi. Vergine. Luna molto bella per parlare di soldi, di affari. Sempre molto attivi sul lavoro, dovete fare attenzione però ai cavilli legali, burocratici. In amore siete grandi conquistatori e gli amici vi regalano momenti molto divertenti. Bilancia. Ancora una giornata positiva. Le stelle di questo periodo sono una dolce sinfonia per il vostro amore ma anche per le vostre tasche, vi attendono successi professionali e sentimentali. Curate anche la vostra forma fisica. Scorpione. Giornata piena di contraddizioni perché nonostante le ottime occasioni che vi si presentano sul lavoro, voi siete troppo svogliati per saperle cogliere. Del resto sotto questo cielo è facile perdere l'entusiasmo. Sagittario. Le novità di questo periodo possono significare grandi soddisfazioni, non dovete aver pregiudizi. Molto piacevole anche la compagnia degli amici. L'importante è amministrare bene soldi ed energie. Capricorno. La luna in posizione difficile crea un rallentamento specie sul lavoro. Non avete la vostra solita carica e qualche affare andrà rimandato. Appena potete prendetevi una pausa per dedicarvi completamente al partner. Acquario. Sarà una giornata molto bella soprattutto per l'amore che continua a regalarvi delle emozioni stupende specialmente per chi è alla ricerca di nuove esperienze. Sul lavoro dovete seminare se volete raccogliere. Pesci. Una luna meno pesante rispetto ai giorni scorsi, serve per recuperare un po' di smalto offuscato da questo periodo tormentato. Ritorna un po' di calma in amore grazie anche ad una spiccata sensualità che vi renderà più affascinanti. L'oroscopo è stato offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Visita il nostro sito www.cartomanti-europei.co